Siamo qui stamattina a Oneglia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza delle donne. Abbiamo colto l'occasione della giornata dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, per distribuire volantini e opuscoli su quello che è la nostra campagna della Polizia di Stato, questo non è amore. Siamo da sempre impegnati in questa battaglia che coinvolge le fasce deboli, specialmente le donne. Il Questore d'Imperia, Cessere Capocasa, è veramente tanti anni che procede in questa campagna, proprio oggi non è qui presente con noi perché è a Genova, a firmare un protocollo d'intesa con vari attori istituzionali, quali prefetture, procure, comuni e ASL, appunto per la violenza di genere. È un protocollo su a tutto campo che prevede il coinvolgimento di tutte le province della Liguria, appunto per dare una risposta netta, decisa e comune su questi reati. Siamo qua oggi come Centro Provinciale Antiviolenza insieme alla Polizia di Stato per questa importante iniziativa, questo non è amore, per sensibilizzare la cittadinanza sull'importante tema della violenza di genere. Ricordiamo che il Centro Provinciale Antiviolenza è sul territorio provinciale con tre sportelli, a Imperia, Sanremo e Ventimiglia, un numero verde, l'818 6060, con segreteria sempre attiva e aiuta tutte le donne e le ragazze vittime di violenze e maltrattamenti a uscire dalla situazione di violenza e allontanarsi dal partner maltrattante.